Il problema della terapia settoriale è molto complesso oggigiorno perché noi siamo abituati un po' in passato a parlare del paziente come un soggetto che deve essere sottoposto a una terapia perché così è stato detto dalla nomenclatura farmacologica e dalla terapia in generale. Adesso il concetto è diverso perché il concetto cosiddetto olistico comprende la presenza della persona che ha dei sintomi soprattutto riguardanti la sfera sessuale è dovuta anche all'invecchiamento purtroppo di una ghiandola che a noi purtroppo pesa e va incontro all'invecchiamento e c'è la prostata, quindi prostata e sessualità vanno di pari passo. Questo non significa che il paziente deve essere considerato come un soggetto dove instaurare una terapia aggressiva, assolutamente no, deve essere presa come dice lei in ambito sartoriale, cioè entrare nelle sue dinamiche, capire quali sono i suoi sintomi, quali sono le sue esigenze e nello stesso tempo intraprendere un percorso terapeutico che deve migliorare, non soltanto dal punto di vista sintomo, ma deve migliorare anche l'aspetto psicofisico, cioè quello psicologico, quello sessuologico, quindi con un discorso come vede a tutto il campo, non soltanto esclusivamente indirizzato alla patologia, ma è un discorso che deve entrare nell'ambito anche della coppia, quindi capire quali sono le esigenze della coppia, quali sono le esigenze del soggetto e quindi instaurare la terapia più opportuna.